FIFA Mundialito Al Mundialito partecipano le squadre che hanno vinto la Coppa del Mondo. La competizione è giocata in Argentina. Lo stadio della finale è il grandioso, che ha la capienza di 66.000 spettatori. Sorteggio delle squadre Sorteggio dai gironi Ecco come sono suddivisi i gironi della competizione. Andiamo a conoscere la rosa della squadra. Possiamo vedere i valori di tutti i giocatori. Scopriamo insieme la loro età, la loro nazionalità, e il loro stile di gioco. Prego. Prego. Grazie a tutti.